Non tutti possono permettersi di farsi seguire da un professionista ad un team di web marketing. Io lo capisco, lo rispetto, ci sono passato anch'io e vediamo quali sono le alternative. Beh, sicuramente un'alternativa è quella di costruire un team interno, magari acquistando dei corsi di formazione da condividere con i propri dipendenti e collaboratori. Noi facciamo corsi di formazione, quindi puoi rivolgerti a noi sia per l'erogazione del servizio e sia per acquistare dei singoli corsi specifici su alcuni canali, su alcuni strumenti con cui puoi formare il tuo team interno che quindi seguirà il marketing della tua azienda dall'interno dell'azienda. Oppure, e te lo sconsiglio, puoi fare tutto senza passare le corsi di formazione, quindi improvvisando con il fai da te. Perché te lo sconsiglio? Perché prima di tutto dovrai togliere tempo alla tua azienda e erogare i prodotti e i servizi ai tuoi clienti, quindi dedicando quel tempo a fare il tuo marketing. Non funziona quel tempo, devi investirlo in qualcosa che ti produca un ritorno, soprattutto se sei a zero. come esperienza nel marketing in generale. E poi, perché a lungo andare, prima o poi ti ritroverai di nuovo ad avere necessità di un professionista in team e lì la spesa è maggiore rispetto a iniziare dall'inizio della collaborazione. Perché? Perché noi spesso ci ritroviamo dei siti web fatti male, dei contenuti fatti male, per cui prima di partire con il nuovo corso bisogna rivedere quanto è già stato fatto. Il numero alla mano ti costa di più. Grazie. 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 Grazie.